MECAP presenta Strategic Leadership Academy Dubai Essere qui a Dubai e avere Roberto accanto è qualcosa di sensazionale Grazie al contatto diretto con Roberto si ha la straordinaria opportunità di mettere in pratica tutto quello che hai imparato, tutto quello che ti viene trasmesso Ci spinge sempre a migliorare, a trasformare, ad evolvere Ci dà sempre spunti interessanti per poter crescere e crescere sempre di più È un po' come la costruzione di un palazzo Abbiamo pensato al Burj di Talifa che appunto non c'era, a Dubai stessa non c'era È possibile fare tutto, specialmente quando è una guida autorevole e capace che ti prende per mano e ti porta qui Grazie a tutti Grazie a tutti Abbiamo due nuove RRC che sono Ega Furlano e Serenella Sappione Grazie a tutti 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 Grazie ragazzi, noi abbiamo soltanto una cosa da fare, iniziamo!